Come è andato questo ferragosto? Questo ferragosto è andato come tutti i ferragosti, diciamo, confusione ce n'è stata, la sera schiamazzi notturni da morire, da morire tutto il corso. Io non è che sto qui, io sto negli orari di lavoro, però c'è la mia commessa che abita a Via Roma e ha detto che è stato un macello tutta la nottata, hanno fatto di tutto. E poi infatti si vede le piante, stamattina c'era tutto terreno, una pianta rotta, insomma come sempre, come sempre. Rispetto all'anno scorso abbiamo avuto molti più stranieri, ovviamente l'anno scorso era un po' condizionato dal Covid, direi forse meno meno folla dell'anno scorso, però forse più qualità. Il ferragosto tutto sommato non ci possiamo lamentare, tanto utenza, il problema sono sempre gli stessi, ragazzi indisciplinati, scorribande notturne, biciclette a gara proprio, lungo il corso. È vero che le forze dell'ordine ci hanno tantissimo da lavorare, è un grande income alle forze dell'ordine, però noi qua ci sentiamo un po' abbandonati lungo il corso, veramente un pochettino abbandonati perché è grave la situazione. Io non posso chiudere l'ingresso all'una e mezza di notte perché entrano persone scalmanate ed è brutto questo per l'isola, l'immagine ischitana. Siamo la migliore isola al mondo, la più bella, ma bisogna fare qualcosa in più per mantenere questo grande premio che ci hanno dato. Questo è grande ramarico, solo questo vogliamo dire, un po' di controlli in più. Eppure sono state istituite le aree di silenzio? Istituite, ma chi fa il controllo? Solo questo chiediamo. I controlli io non ne vedo proprio, cioè i controlli non ce ne sono neanche di già, non passa un vigile, come gli altri anni che c'erano sempre vigili, macchine contro senso pure, passa. Stiamo un po', secondo me, sullo sbandato.